O capi a chi? è la domanda enigmatica che fa da titolo alla mostra allestita nei locali di BPL Arte a Lodi. Si compone dei lavori realizzati dagli alunni delle materne delle primarie e dagli allievi delle medie superiori sul tema quanto mai attuale dell'inclusione sociale. Se i bambini più piccoli sono stati sollecitati ad esprimere le loro opinioni su magliette e fogli da disegno prendendo spunto dagli orti sociali sorti in questi ultimi anni in diverse città, i più grandi si sono confrontati sulla questione spinosa dell'omologazione che sembra caratterizzarli. E' qui che è entrato in gioco O capi, l'animale bizzarro del tutto immaginario che è simile a tanti ma da tutti prende le distanze. Lo hanno spiegato gli organizzatori dei due progetti che nel corso dell'anno hanno coinvolto quasi 3.000 tra bambini e ragazzi e adolescenti del Lodigiano. Si tratta degli educatori e degli animatori del Movimento per la lotta contro la fame nel mondo e quelli della Caritas, da tempo impegnati sulle problematiche dell'inclusione sociale. Lo hanno ribadito nel corso dell'apertura della mostra Antonio Colombi, responsabile del movimento di via Cavour, e Carlo Cornalva, referente della Caritas Lodigiana. Dopo di loro sono intervenute le artefici dei due progetti didattico-educativi che hanno interessato per mesi le scuole del territorio. Alla mostra, che resterà a disposizione dei visitatori per una settimana, sono abbinati tre momenti di incontro, a partire dalla ricerca delle allieve della quarta B del mafeovegio di Lodi, sui pregiudizi relativi agli orientamenti sessuali che non vanno per la maggiore.